Il settore portuale è un settore in continua espansione ed evoluzione e per questo la Scuola Nazionale Trasporti e Logistica organizzerà dei corsi di formazione per i giovani. Sì, lo fa ormai tradizionalmente nel 1991, ma stiamo incrementando ultimamente le nostre attività, visto il trend molto importante del porto e soprattutto viste le possibilità occupazionali da parte dei giovani. In questo caso siamo qui a parlare di un nuovo corso molto interessante che nasce da un accordo fatto con la società MSC di navigazione e alla quale si è preso l'impegno di assumere perlomeno il 60% dei partecipanti al corso. E in che cosa consisterà questo corso e quali saranno i requisiti per prendervi parte? Il corso riguarda la ferrovia, ovvero questi giovani andranno a lavorare per preparare i treni, significa preparare i documenti per la partenza del treno, ispezionare i treni, e quindi mettere in condizione il convoglio di partire con la massima regolarità e con la massima sicurezza. È un corso che pretende ovviamente dei giovani che abbiano caratteristiche particolari, siano in possesso di un diploma, abbiano una vista di 10 decimi, con l'eccezione della possibilità di migliorare di due decimi attraverso lenti particolari. Per conoscere con esattezza quali sono le caratteristiche di questo corso e quali debbono essere i requisiti, naturalmente possono i giovani accedere alla Scuola Nazionale dei Trasporti e Logistica. È importante ricordarsi che per poter accedere a questo concorso non bisogna sforare il termine delle ore 13 del primo settembre. Il corso poi si svolgerà a Genova, in questo caso a Cornigliano. Saranno quindi 20 i giovani che parteciperanno a questo corso, 12 dei quali saranno sicuramente occupati in questa azienda che ha firmato appunto questo impegno, ma abbiamo l'esperienza del corso che abbiamo finito l'anno scorso, nel quale invece di assumere il 60%, alla fine hanno assunto poi il 100% dei giovani.